Prima Campobasso e poi Gavorrano. I due prossimi impegni del Borgo Abbuggiano, entrambi in trasferta, saranno forse decisivi per le sorti della squadra di Marco Masi. Agli azzurri servono punti, reduci dal pareggio peraltro un po' stretto, ottenuto con il Ponte d'Era prima della sosta pasquale. I Valdinevolini devono assolutamente vincere per staccare il passe per la salvezza ed uscire dalla zona caldissima della classifica. Mancano sei giornate alla fine, gli azzurri hanno ottenuto sette pareggi e una sola vittoria nelle ultime otto gare, ma soprattutto hanno segnato una sola rete, non subendone però neanche una. Una vera e propria saracinesca in difesa, con evidenti problemi però nel reparto offensivo. Sintomatico della situazione che sta vivendo il Borgo Abbuggiano, i tanti errori sottoporta degli attaccanti azzurri nell'ultimo match al Porta Elisa contro il Ponte d'Era, culminati nell'errore dal dischetto di Dimash. A Campobasso Masi potrà finalmente contare su tutta la rosa, eccezione fatta naturalmente per il solito corsi. Maretti farà parte dei 18, anche se ancora non al meglio della condizione. In avanti si riforma la coppia Dimash e D'Antoni. Sarà la mentalità con la quale gli azzurri scenderanno in campo, la chiave di volta per tornare da Campobasso con i tre punti. Non ci deve mai mancare e anche i gol, perché senza i gol non riusciamo a vincere. Speriamo che io con i miei compagni riusciamo a fare gol, che in tutti i momenti si manca, però speriamo di fare una bella partita. Il Campobasso non sta attraversando un periodo facile. Sullo sfondo si annuncia un avvicendamento ai vertici della società, fatti comunque che, secondo i giocatori azzurri, non incideranno sulla prestazione dei Rosso e Blu in campo. Domenica, secondo me, è la partita più difficile dell'anno, però sicuramente è giorno di ritorno, perché troveremo di sicuro una squadra che ci aspetterà per fare la partita, come noi, però per loro questi tre punti sono fondamentali.